Mi raccomando, non cambiate le cose del passato, se no succede il casino. No, andiamoci, lo prendiamo, ritorniamo, non ti preoccupare. Mamma è venita a rompere i coglioni nel 1970. Io devo capire perché sta donna mi ha abbandonato. Ma che fa? Fuma la canna con me in braccio. Ma che male? Vuole che si spiega tutto. Dai, a me lo puoi dire. Ma non so nemmeno io chi è il padre. In quel periodo sperimentavo. Ho capito, sperimentare. Ma che sei scemo? Ma che cazzo stai a fare? Noi conosciamo i più grandi successi dai prossimi 40 anni. Registriamo tutto. È ciò che è fatto. Ti vuole sempre l'indiparpo. Vamos alla playa. Ma come vamos alla playa? Cioè, proprio quando parlo non mi sentite proprio. Malinato! Avete creato un casino spazio temporale per cui noi oggi ci ritroviamo in un regime fascista. Però la Roma ha vinto 30 scudetti. Sì, sì, sì. E Maradona? Juve. No, io. Noi dobbiamo risolvere subito questo problema. Non possiamo perdere l'occasione di infiltrarci. Con sta caposcia pelata che, come sai, a destra è molto pressata. Tramite lei vorrei entrare nel giro di string. Tu hai cantato una poesia con gli ossizi, eh? Sì, e da chi hai copia tutta volta. Cerco un centro di gravità permanente. Tu di quale organizzazione saresti che non ho capito? Ma semplicemente io è un gruppo d'amici. Stavo a cercare di spettare il colpo del Stato. Non è che frequentare i fascisti ti hai preso un po' la mano? Ragazzi, insieme noi lo possiamo ancora cambiare, stupido. La cosa che mi raccomando, agiamo con cautela, va bene? Ho morto i fascisti! Ma tu cazzo, va?